buon ciao benvenuti a tutti dal vostro amichevole nonno invecchiato di qualcosa non è questa l'anno prossimo l'anno prossimo è quello distrutto io come è scritto sono ancora a cassetto la mia simpatia non so tanta sono ancora a cassetto è vero vergognato già prima non c'è bisogno di sentirlo giusto per sentire partecipi in mondo visione a tutti è mercoledì siamo puntuali a meno di giorni di tante novità alcune di quelle che vedrete si venderanno prossimamente altre si vedono subito altre scrivete perché ci sono cose troppo fighe veramente troppo fighe tra action figure giochi e soprattutto fumetti partiamo dei giochi con due novità molto 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 importanti che una bellissima croccanti e gustose si è così così c'è niente dentro sono a doppio adesso sono assai ma dico a doppio sono assai vero è mizzi casi sono 6 8 8 16 4 32 32 64 fortissimi comunque sono buonissimi perché sono dei sono due sono due deck per poter giocare per ciò si può dividere in due uno si prende uno si prende l'altro per imparare a giocare c'è anche il libretto delle istruzioni i mazzi sono i mazzi no non c'è niente i mazzi dentro sono catalogati no c'è lo scotch dentro i mazzi dentro sono catalogati come ha fatto pokemon come faceva pokemon per poterti imparare per farti imparare a giocare quindi fa fare le mosse giuste con il mazzo senza mischiarlo vero si nella probabilmente le inizia a mischiare e fai la vera partita però capito bobo zeus imparare a giocare se un libricino fatto a fumetti a fumetto fighissimo e questo può essere veramente un bacio per tutti si 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 non doveva cosa nemmeno sai tipo 15 euro 20 euro non è meno se non arriva i 20 euro purtroppo non c'è il prezzo sicuro però sono otto e si dovrebbe essere 15 euro a questo del genere figo figo e poi la bomba iniziamo con il cagnolone shining collezione con adesivo shining bellissimo eh no si infatti la difa per forza se c'è la carta abbiamo già comprato è il mio butto di soldi da internet o qualcuno vuole sbuzzare yuki non c'è scritto niente di non presentare il prodotto eh si e no però è il 26 vabbè però è già uscito tecnicamente dici tecnicamente sì non c'è sennò mandavano il sennò c'era il foglio all'interno quando non c'è aspetta no 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 perché poi non è che la vendita la vendita si e poi infatti tutte sono tutte di stampe don dozzo però andiamo a vedere la cosa più figa bellissima spettacolo shining questo è un fatto proprio da magic beh vabbè se rubano le cose da magic così fanno la migliore in che senso e vabbè fare tutte le cose pure holo scrivendo pure gli adesivi ah gli adesivi si è la nuova versione è solo la nuova versione è sempre lo stesso si si è la prima bussino l'abbiamo buttata lui che è don dozzo ecco c'è una carta buona ah è vero cosa tutte illuminate le carte vino il volvo inizio vino il volè g ok si si è nuova mamma mia e poi andiamo a concludere ma dobbiamo finire il set di questo si 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 è rotto un calore è fortissimo rotto un calore ok raga e uno buttato l'abbiamo buttato era meglio il kit forse di yuki si perché almeno prendevi lo zeus ok e basta vabbè vuoi un ca penna sto facendo però era arrivato nel caso poi abbiamo bellissimo il raccogitore foillissimo si di yuki e kaiba 180 carte in doppia roba dovrebbero esserci anche esatto altre cose pokemon skybridge vabbè sì ma vabbè sì pure tu ma vabbè sì no scusa signore questa era bellissima ragazzi raccoglitore da quattro e hanno usato il cervello questa volta tutte le opzioni cioè con tutte le sue opzioni con tutte le sue opzioni hanno usato il cervello bellissimo è questo spoiler oh ah ma aspetta 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 gira ma è aggiungibile perché dicono venti incluse no non c'entra niente venti incluse è normale quattrocento e venti pagine con mito con... ah perché forse hanno le varie materie... no no io pensavo vedi pagine che hanno quattrocento e tante carte salve spettacolo comunque ok oh bellissimo spettacolo eh beh perché l'hanno fatto bene comunque era giusto così era sbagliato la prima volta per l'amico vittorio che salutiamo oh bellissimo il deck box di skybridge bellissimo il deck box io ho visto dovrebbe tecnicamente se c'è problema fighissimi eh 100 100 sono 50 e 50 cervello devi comprare quindi di comprare due bellissimo eh spettacolo eh quello è spettacolo è ormai è andato ben bene bellissimo comunque comunque bellissime anche le bustine bellissimo pikachu pikachu skybridge fortissimo exploding kitty good than devils questo lo va attaccato brucia bellissimo ecco l'aiuto con la bomba cacciamola la bomba eh ci sta bellissimo non è giumaggio però è copiato eh si doveva arrivare e qui abbiamo pure un bellissimo e qui abbiamo pure un bellissimo i tagli con il colmo si è qua e quando sta facendo che cazzo è successo bellissimo Gara, Minato e Sasuke Scusami Ah tu non l'avevo visto proprio Minato Bellissimo Tuo muro è Cigara Si vede le mani in faccia Sailor Pluto Pluto? C'è scritto Ok, ah ecco Bellissimo Rufi Piccino Ok, bellissimo Uraza One 72 volumi di niente Ricordiamolo Il Play Mart questo è fuori Inutile pure 25 rinz fan Quello è bellissimo Sky Bridge E basta Altri giughi, altri giughi Sky Bridge Basta e poi abbiamo Ritorna al futuro Dato che è arrivato Il Gear 5 Vabbè comunque L'abbiamo visto È il Kaidu Quello che abbiamo già avuto Drago Sì, sì, lo sapete Ecco, lo si vede Bellissimo Da sopra Yes Quando siamo in alto Yes E poi Parte fumettistica Che lo arriviamo subito Grazie al maestro Kentaro Miura Fortissimo Il campanetto Numero 8 In tante copie Il numero 6 Sempre su L'ultimate In tantissime copie Abbiamo già levato Due scatoli In uno Pesantissimo Vedi Si è visto dallo sforzo Per prenderli A chi lo torri Chiamo Il numero 21 Fortissimo Tante copie Non me lo ricordavo verde Però I villai Chi è? Junio È verde Berserk E poi E poi E poi E poi E poi E poi No 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 Ah L'attacco Di gigante 34 Di attacco On Titan Numero 34 Sono Confuso Ah No Al contrario Stanno cadendo Nell'oblio La Della mia È il numero 34 Ah E poi Il numero 34 Ah Sono con una paglia Ah Solo la copertina Cambio E vi ho detto Pure come muore Di casa Ok Ok Solo Avendo la copertina Mamma mia Come Devono marciarci Sopra Non è così Incredibile Veramente Facciamo un po' Di bombe Boh 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 Non hai quanto Frai Vabbè Ma quanto è figo Tessera Eh Ci sta Se non lo faceva lui Il robottone Ah Blupido Qualche retrato Come sempre Qualche bat Novità 87 Il numero 36 Quanto sta A mille euro 6 euro Grosso Bello però Vedi pieno A due A due Ken Ah Urasawa Fortissimo Urasawa Con il Yawara Numero 3 Official Judo Match Che brutto Ho visto qualcosa Di bruttissimo Questa roba di Questa roba di Questa roba di Suburban Help Help Non è Sombare Hai muoviso Ragazzi Bellizio Chi è C'è Cosa Digo Che cos'è Due Che cos'è due Questa roba di Merda di Tardiamo Oh Yawara Ashoka 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 Sì Ashoka Perché l'ha Che muta Ah Mi romanzo Poi Un po' di tesla Su con la tesla Tesliamo Che brutto Eh ma stavo notando Che questo è Dandadà Ignorantissimo Poi un po' di arretrati Di un pezzo Yes La blu E poi anche la bianca Perché no La blanche Dragon Ball Evergreen Vabbè Sempre Infinito Anche Evergreen Un po' di Fortnite Of the Apocalypse Yes Mairo Diamo 3 Diamo 3 14 che finiscono In 2 secondi Chissà perché Poi Altra novità Non tu Altra novità Witch The Beast Otherside Per l'amico Fabiatto Che salutiamo Joker Numero 3 Che figo E' sempre figo Quel personaggio Che è proprio Dopo l'amico Ah C'è posto per te E' il suo canne da guardia Che cosa C'è posto per te E' la stessa scrittura Eh si Poi che ci faccio caso Si Seraph of the End Numero 20 Do Flamingo Ah La nave di Teseo Forti Teseo Previto L'ultimo Di Kamisama Kiss Yes Infatti si sposano Spoiler KX Vabbè Però si vede dalla copertina Salve Non è che E' così difficile Mi togli il respiro Magara Moor Record Fragnac Citrus Insieme al respiro Mawai Che figo Mawai Comunque Geniale Numero 3 The War Of Greedy With Ah ma che sfacciato Il numero 18 Yes Db Dragon Ball E poi Un'altra Strega E' un'altra Kira Ultimo Ma non più importanza Batman Justice Vabbè Si è uscito Joker C'è pure Batman Redizio Robbe di Alex Star Wars Alta Repubblica Evil Delusion Nel numero 9 Che mancava Ok Quei due a me La deprima L'ho trovata disponibile Fortissima Deprima E' finita C'è quella nuova Checkmate Oddio Santissimo Oh Ma Conan Che ha detto Che va in pausa Fortissimo E cosa è buona Per recuperarlo Adesso Che va in pausa No Ecco Ma come via Allora Che sono Montato Ma questi Gli hanno mandato Indietro Cioè Guarda No no Tu guarda questo Io ho preso Una carta Ma secondo me E' distrutto Siamo uno Delle poche Pugetere Che l'ha venduta Tantissima Può essere Giant Killing Fortissimo Di Nuvolo 58 E poi Ayano Ayura Ma questo Non sembra Quell'altro Uguale No Dalla stessa Autrice di Sasaki Emilia C'è scritto Vabbè Ma come una copertina La scrittura Che dedica No ma sono Proprio loro Se li guardi D'adietro No ma si ti prende La parte Hanno cambiato Solo i nomi Poi abbiamo Fortissimo Mayomiro 14 Bellissimo Spedito Abbiamo un altro Tesla Eh si comunque È vero Mayomiro È stato velocissimo A arrivare Sì uno al mese Quali sono Le altre elettratti Che mancavano E poi Come Un gatto nero Sempre che No no Quello è sempre Perché non ce l'ha E la stiamo chiudendo La serie Finalmente Difficilissima Ok Raga Questo è tantissimo Come sempre ci trovate Domani arriverà Altra roba Come sempre Seguitici sui social Veniteci a trovare Via ragazzi 99 Numero 17 Anche la domenica Povericcio Beloglio Alla prossima